Il Codacons del Diano ha chiesto alla procura di indagare sulla copertura di un tratto dei binari della ferrovia Sicignano-Lago Negro, chiusa al traffico dal 1987 ma mai dismessa, avvenuta nei pressi della zona industriale in località Mezzaniello. Di recente la trasmissione fuori Tg trasmessa da Rai 3, spiega Roberto De Luca del Codacons, ha mostrato interesse per la questione della rete ferroviaria Sicignano-Lago Negro che attraversa il Vallo di Diano. Dal sopralluogo effettuato all'altezza della costruenda zona industriale di Sala si è rilevato che una parte di strada ferrata è ormai scomparsa per permettere l'attraversamento dei mezzi pesanti dalla strada statale 19 ai capannoni che si stanno costruendo nella zona PIP. Per un caso simile tra l'altro è già in corso un processo nei confronti dell'ex sindaco di Sala perché è ritenuto responsabile dell'invasione del demanio pubblico ferroviario di una stretta strada comunale di campagna parallela alla linea ferroviaria al servizio di un complesso immobiliare.